Adesso abbassiamo un po' perché si sta già bruciacchiando Ok Mettiamo una bella, giriamo, facciamo tutto il nostro berliettino Mettiamoci ancora un po' d'acqua perché qua è finito anche il brodo dei funghi Ok, se non è diventato troppo acquoso e non è buono Sto fuori uscendo tutto il risottino